Candidati Tutti imbocciati Non ci metti su Facebook Su Youtube Ma che cosa ricordo? Questo Capito ma non lo hai udito Tu vai dove sono i miei video Maria lo sa dove sono Vai la che stasera ti guardi come si viene Su Youtube Maria lo sa e lo trovo Maria Sì ma su Facebook ci sei? No Sono l'unico che non c'è là sopra Mia moglie c'è Io non ho messo Io sono solo stata a comprare Per l'università non lo sapevo Eh Hai di usare Twitter Twitter Ti dà a mandare dei messaggi su Twitter E' più meloce No solo messaggeri E aveva fatto 52 Cioè se non avevo mai avuto E avevo... No 25 Lei l'altra volta ha fatto 56 No 52 Sì Un' Sì 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.